La seconda Commissione ha approvato oggi il piano di assetto naturalistico della riserva del Nunziana che arriverà in Consiglio mercoledì della prossima settimana. È un fatto rilevante e importante perché tanti sono stati nel corso degli anni i piani che però non hanno completato il loro percorso, fin dal 2001. Questo piano di assetto naturalistico è stato votato dal Consiglio Comunale, giunta di centro-sinistra, un grande lavoro portato avanti dall'assessore Paola Marcheggiani il 13 novembre 2018. Purtroppo a quasi due anni di distanza arriva in Giunta il provvedimento e il provvedimento arriverà in Consiglio la prossima settimana. Restano fuori due aspetti rilevanti a mio avviso. Il primo che riguarda eventuali corridoi meritevoli di tutela da inserire. Era previsto nella nostra delibera di Consiglio Comunale, oggi abbiamo avuto la certezza che a due anni di distanza la Giunta non ci ha ancora lavorato, per cui bisognerà riprendere questo percorso. Il secondo è il famoso articolo 13 del piano di assetto naturalistico che prevede nella zona D1 una fascia dunale per la riconnessione con la riserva. È previsto nel piano di assetto, era previsto anche in un progetto che riguarda il lungomare sud della città di Pescara, però da giorni abbiamo saputo che con un ordine di servizio, senza modificare il progetto l'area dunale da realizzare tra i due stabilimenti è stata soppressa e di qui naturalmente ci sarà la nostra ferma opposizione prossimamente in futuro in Regione e in Consiglio Comunale per fare in modo che quell'area dunale venga reinserita nuovamente in questo progetto.